Assessore Tiseo, il 18 giugno si terrà un incontro a quarto con le Vecchie Glorie del Napoli. Dove si terrà l'evento? L'evento è stato proposto da Antonio Carannante, ex giocatore del Napoli degli anni 70-80 e dal presidente Castrese Paragliola del quarto. L'incontro si terrà allo stadio comunale Giarrusso per venerdì alle 18. I cittadini sono invitati a partecipare? In realtà l'incontro prevede un costo del biglietto di circa 5 euro per quanto riguarda i maschietti e di un euro e mezzo o due per quanto riguarda bambini e donne. L'intero importo sarà devoluto a padre Nicola Carandente, infatti noi abbiamo denominato Missione Columbia questa manifestazione perché vuole sostenere i bambini sfortunati della Columbia, nel quale padre Nicola Carandente presta la sua opera come assistenza.